Via libera dell'aggiunta municipale di Battipaglia ai lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico Marconi. L'intervento, già inserito nel piano delle opere pubbliche dell'ente, prevede la manutenzione straordinaria di tutti i cornicioni perimetrali dell'edificio, la sistemazione del solaio di copertura dell'ultimo piano, che presenta vistosi segni di deterioramento e la riparazione di tutti i servizi igienici. Totale dei lavori 200.000 euro, di cui 100.000 finanziati lo scorso febbraio dal Ministero dell'Economia con apposito decreto.